bella lì raga power robbie è arrivata una cosa questa impacchettata davvero bene stavolta bene 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 da dove lo apro quindi bisturi e facciamo l'operazione chirurgica ok un boxing un boxing un boxing eccolo qua questo è un metal detector in point e dai quindi è subacqueo o almeno così si spera il pacco leggermente segnato qua vabbè chi se ne frega apriamo e dentro c'è dentro c'è una busta con delle parti che servono a collegare questo metal detector che è manuale per poterlo collegare ad un'asta in questo tu lo puoi collegare ad un'asta e usarlo come fosse un metal detector normale poi c'è il libretto di istruzioni in inglese quattro pagine abbastanza dettagliato a colori va bene dopodiché all'interno c'è questo qua che è il braccialetto per non perderlo così si ghiaccia si tira si regola e poi di qua c'è il pulsante che si sposti e lo blocchi ok e all'interno abbiamo il metal detector vero e proprio c'è una bella custodia a retina che va bene perché così si asciuga subito dall'acqua e la sabbia esce fuori faccio il pulsantino a tirare il sacchetto ed eccolo qua purtroppo all'interno non c'è nessuna batteria strano perché ho visto altre persone che lo hanno acquistato all'interno c'era anche una batteria a me non c'è pazienza o meglio non mi importa perché utilizzerò questa che è un caricabile l'ho comprata apposta e qua c'è il metal detector che giri lo apri lo puoi usare così oppure lo puoi fissare qua a un'asta lasciarlo così e usarlo come un metal detector normale nel mio caso verrà usato così ok qua c'è la regolazione da qua lo regoli lo stringi ok ci sono due pulsanti belli bellissimi di gomma cliccano bene facile uno all'accensione e l'altro c'è la f di funzione tasto funzione qua c'è per attaccare il cordino all'interno della busta ci sono anche degli adesivi rifrangenti che così in acqua non lo perdi lo vedi eccetera va bene non penso di applicarli non mi interessano non mi servono a niente però ci sono poi c'è una barra filettata un perno e due cappucci che si avvitano appunto su questa barra filettata che poi inserisci all'interno di questa parte qua e vai a bloccarlo ok perché qua ci attaccherai l'asta del metal detector un tubo o quello che vuoi questa parte qua si avvita nella parte posteriore stringi il fine in fondo e poi in questa maniera vai a cercare come fosse un normalissimo metal detector e poi c'è un'altra cosa c'è un tappo di un cappuccio dove anche qua volendo per attaccare il filo del cordino per non perderlo in maniera che non entra la sabbia all'interno e va a bloccarti il filetto per aprirlo ho fatto abitare il tappo posteriore c'è una grande guarnizione non è una O-ring è una guarnizione piatta qua speriamo che non sia un problema domani che va sostituita perché come fai? ci metterò una O-ring a questo punto c'è il tappo e in fondo al tappo c'è della spugna che serve per bloccare la batteria c'è un'ulteriore guarnizione anche qua quindi ha una doppia sicurezza una di qua e una di qua cosa che in altri metal che costano di più non ho visto all'interno c'è il vano batteria per la batteria a 9 volt che adesso mettiamo ok riabito il tutto riabito il tutto un suggerimento se lo acquistate anche voi io suggerisco di mettere molta vasellina sul filetto sulle guarnizioni sia su questa qua sia su quella interna dentro del tappo così si assicura che non penetra l'acqua e non si seccano le guarnizioni niente una volta inserita la batteria andiamo ad accenderlo va mantenuto premuto ok è acceso prendiamo un pezzo di ferro telecomando telecomando potente a 12-13 cm quindi abbastanza buono adesso vi suona anche la gopro la gopro la sta suonando a 40 cm suona la gopro quindi direi che è molto potente con il tasto funzione puoi mettere che non lo so va mantenuto premuto penso esatto adesso vibra e basta se lo mantengo premuto ancora suona e basta senza vibrare se lo tieni premuto ancora vibra e suona la cosa bella di questo pinpointer ed intelligente è che è davvero davvero bene per spegnerlo basta mantenere premuto pulsante accensione la cosa molto interessante di questo metal detector è che è pieghevole quindi così volendo se hai una tasca capiente lo puoi mettere in tasca addirittura è davvero piccolo una volta chiuso è lungo poco più di una spanna poco più di una spanna quindi molto 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 bello interessante è più corto di un pinpointer normale anzi vi faccio vedere ecco questo è il gp pointer il pinpointer veramente economico ma ottimo che sente anche lui molto bene per quello che costa costa davvero una stupidata vale la pena acquistarlo non è subacqueo va bene se ti usi su terra in terra o anche in sabbia asciutta funziona davvero molto molto bene non dà falsi segnali questa è la differenza di grandezza bene diciamo che è appena appena più lungo questo di questo il gp pointer bene la cosa molto figa di questo scuba tector di questo pinpointer dai è che beh oddio pinpointer no di questo metal detector subacqueo la cosa bella è che rispetto ad altri essendo pieghevole quando lo apri hai una bobina che è enorme la bobina è davvero davvero grande ecco perché ha molta potenza e in più è pieghevole lo metti in tasca nello zainetto rispetto allo scuba tector che è lungo così e non sai mai dove metterlo ci vuole sempre comunque uno zaino in vita perché uno zaino più piccolo non ci sarebbe questo invece da tutti dove vuoi questo è la copia il clone del quest scuba tector pro è un clone ma non è detto che sia un clone anche perché comunque li fanno entrambi in cina quindi cambia niente solo che questo non ha tutte quelle funzioni che ha il quest e per me sinceramente è meglio questo perché più funzioni hai più magari te le dimentichi sono tutte cose inutili che non servono a niente e che anzi fanno diventare la scheda elettronica e tutto il sistema molto delicato io le istruzioni dello scuba tector non me le ricordo mai tutte le volte mi fa impazzire è davvero leggero non pesa molto anche perché la batteria come se io all'interno pesa la metà di una batteria normale quindi rimane molto leggero ho visto in alcuni video che in acqua galleggia rimane così la marca di questo detector dive è impronunciabile è prodotto in cina è realizzato in cina ma su commissione di una ditta russa questo è russo polonia giù di lì infatti infatti tutti i video che io ho trovato su youtube che parlano di questo ce ne sono tanti ma che ti fanno solo l'unboxing invece noi faremo di più faremo i video in acqua con la telecamera tutto una recensione completa e dettagliata non in questo video chiaramente perché oggi tra l'altro piove non posso neanche andare al mare sì volendo potrei ma non ci voglio di bagnarmi in moto e comunque non è un marchio cinesato non è che fanno solo questo per un anno poi sparisce poi no questo qua è un marchio che va avanti da molto producono anche questo il gp pointer questo però è della gpoint non è della stessa marca ma lo producono anche loro questo e a parere di tutti questo è quello che non vale molto dicono che ha problemi l'unico problema che ho trovato in questo è che si spacca la plastica qua nel tappo dove vai a buttare si è rotto l'ho incollato in mille punti proprio qualità della plastica super scadente anche questo non è che sia chissà cosa comunque per quello che costa io l'ho pagato intorno alle 50 euro spedizione compresa e comunque va da un marchio serio anche perché ha il suo sito internet basta che scrivete ZRIGZI ZRAGZA 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 basta che scrivete ZRAGZA e lo trovate adesso vi faccio vedere bene il marchio il nome questo questo è il nome ok e infatti russo russo sul loro sito producono una marea di cose tante fanno anche abbigliamento la metal detecting bolse cose pale se non sbaglio vendono anche delle pale vari metal detector questo questo sul loro sito non c'è perché perché l'hanno appena fatto è proprio appena uscito e da poco non hanno aggiornato il sito si vede non c'è non c'è io almeno io non l'ho trovato poi magari c'è non è che sono stato lì a guardare più di tanto per curiosità sono andato a vedere e devo dire che è un marchio serio finalmente non è una solita bagianata niente questo è quanto non vedo l'ora di provarlo magari domani magari no domani no perché me ne arriva un altro il coppia la coppia del nokta macro pulse dai non vedo l'ora di provarlo dammi una monetina va dunque colana d'argento colana d'argento va viene bene 8 cm quasi 7 qua poi sono dentro la gabbia di faraday qua c'è tutta la 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 boliera quindi metallo qua c'è una cifra alle mie spalle ho delle casse da ah questo qua è proiettore stavamo guardando in film ho delle casse da 1000 watt e c'è una marea di magnete e rame eccetera che questa la sente vediamo da quanto la sente 50 cm 50 cm a mezzo metro a mezzo metro la sente è potente questa cosa non sembra è un vero metal detector solo che in miniatura questo è puzzato è un pulse tecnologia pulse che rileva tutti i tipi di metallo non rileva va bene l'oro di piccole dimensioni però sul mineralizzato e qua la spiaggia è nera 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 come il carbone questo è l'unico metal detector che funziona gli altri non vanno non vanno non vanno non puoi neanche accenderlo tu prendi un Garrett Ace un VLF e lo accendi inizia a suonare da solo senza neanche avvicinarlo al terreno inizia a suonare da quanto è mineralizzato qua bene facciamo un piccolo test questa è una moneta da 25 centesimi di peso filippino grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.